Il viaggio nella storia della nucleare in Italia ci porta a Trino, in provincia di Vercelli. In quest'angolo di pianura padana, tra distese da un verde verdissimo, campi coltivati, vigneti e risaie, si scorgono in lontananza le sagome degli impianti che ospitarono i reattori nucleari. Questa è la storica centrale Enrico Fermi, costruita sulle sponde del Po. I lavori per realizzarla iniziarono nel 1961. Durarono solo tre anni. Poi, dopo il referendum del 1987, anche questo impianto venne fermato. Da allora è in corso il cosiddetto decommissioning, il complesso e costosissimo smantenamento della centrale che si protrarrà almeno per altri 40-50 anni. Per i primi due anni da quando venne costruita questa, la centrale nucleare di Trino-Vercellese, fu la più potente al mondo. Ma poi, nel 1967, dopo una serie di record pur positivi che l'impianto fece segnare, ci fu il primo incidente. Si fessurò una guaina d'acciaio di una barra di combustibile, un incidente non di particolare gravità, ma che provocò il blocco dell'impianto per tre anni. La centrale scaricò trizzo radioattivo nelle acque del Po e non fu l'unica volta. Anche nel 1979 l'impianto venne fermato per introdurre una serie di modifiche dopo l'incidente alla centrale nucleare americana di Three Mile Island. Oggi la centrale nucleare rimane lì, in un'area di fatto contaminata, inaccessibile se non dopo numerosi controlli e solo ai lavoratori che partecipano alle operazioni di smantellamento. A poca distanza ci sono alcune abitazioni. Da tempo ferve un dibattito sull'inquinamento della falda acquifera. Sorprende vedere a poca distanza, solo al di là della strada, campi coltivati. Ma il nucleare negli anni 70 e inizio 80 andava a gonfie vele e nel giro di poco arrivò la decisione di costruire una seconda centrale. Ed eccolo qui, questo è l'impianto numero due di Trino Vercellese. Guardandolo da fuori a tutte le sembianze di una centrale nucleare classica come quelle americane, in effetti doveva diventare la quinta centrale nucleare italiana. Poi però per il referendum del 1987 questo impianto fu convertito ad una centrale a gas e vapore. Lo stop e la riconversione dell'impianto, lavori di fatto già iniziati, costarono almeno 2.000 miliardi delle vecchie lire per i contratti non rispettati. Questa sarebbe stata la centrale più potente di tutte, anche rispetto a quella di Caorso. Avrebbe avuto ben due reattori. In questo caso oggi non c'è il problema delle scorie, che invece continua ad esserci per l'impianto numero uno di Trino. Gli scarti estremamente radioattivi sono stati portati a Saluggia, ad una trentina di chilometri di distanza e da qui verranno portati in Francia. 8 viaggi speciali a bordo di treni super scortati sono previsti entro il 2012. Ma le polemiche si infiammano sia sulla totale mancanza di comunicazione di quando siano effettuati i trasferimenti, la popolazione non viene avvisata, sia sulla pericolosità del sito dove sono stoccate. C'è però un problema e anche non da poco il deposito di Avogadro in cui sono stoccate il 75% delle scorie radioattive italiane è davvero vicino in linea d'aria solo un chilometro e mezzo dalla Dora Baltea e i pozzi di uno dei più importanti acquedotti della zona. L'area è di fatto militarizzata, non si può accedere neppure alla strada che porta l'impianto senza essere autorizzati, vietatissimo filmare o scattare foto. Precauzioni efficaci per l'uomo ma non contro il nemico alluvione. Nel 94 e poi nel 2000 i depositi furono in grande parte sommersi. Per un soffio si evitò una catastrofe. Lasciti a dir poco problematici nel nucleare con le cui inside qui bisogna ancora oggi fare i conti tutti i giorni. E i cartelli non poi così veritieri, comune denuclearizzato, sono un lascito che diventa monito per il futuro. Se non dovesse passare il quorum oppure vincere il no, questi saranno con ogni probabilità i primi impianti ad essere riattivati. Da Trino Vercellese, Stefano De Nicolo, Euro Reporter News.